Voglio avvertire tutti i cittadini che con ordinanza di chi vi parla è stato disposto che il conferimento dei rifiuti urbani nei cassonetti avvenga alle ore 20, dalle ore 20 in poi, non durante l'arco della giornata, non prima delle ore 20. Questo serve per evitare che i rifiuti stazionino nei cassonetti e producano effetto sporcizia, cattivo odore e percolato. Ovviamente ci sono dei provvedimenti punitivi per chi non rispetta questa ordinanza, ma io non mi appello agli interventi repressivi. Mi affido al buon senso civico e alla buona educazione dei cittadini di Cerignola. Facciamo questo piccolo sacrificio, consentiamo all'azienda sia di lavorare meglio, teniamo più pulita la nostra città. Basta darsi questa piccola modesta regola. Si portano i sacchetti nei cassonetti dalle ore 20 in poi. Mi raccomando.